qui sono in banda 80 metri 3666 come vedi e non c'è inserito nessun preamplificatore d'antenna lc 705 lrx gain si trova all'80% ed è abbastanza silenzioso adesso aumento lrx gain senza preamplificatore non c'è niente devo dire sono veramente soddisfatto naturalmente c'è un piccolo stilo ma tieni conto che siamo caro fabio in 80 metri veramente stasera c'è un ascolto molto 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 bello poi c'ho la ferrovia vicina e c'ho il mare vicino ciao dai vi saluto tutti io proseguo qui col divertimento va bene va bene poi magari metterò qualche filmato su youtube magari metto il filmato tanto così per fare qualcosa ciao ragazzi